Ok, facciamo uno scherzo telefonico. Chiamiamo Mr. 99%. Sto a non muore. Stai zitta. Stiamo già chiamando, smettila. Stiamo chiamando. Smettila, stiamo chiamando. Utilizzeremo questo video qui. Non credo. E perché non ci risponde nessuno oggi? Che bastino. Che tipoteci. Ah, basta. Ok, uno. Dove cavolo è tutto? E due. Ok. No, poi stai zitta. No, stai zitta. Ok. Pronto. Terence, bend a very good ghost. Pronto. Oh. Ah, a ghost. I'm going to make you a skooki sandwich. SOOKI SANDWICHE. Non lo so, era un amico di Chiara, credo. Oh, aspetta. Devo rimettere il video più avanti. Dove? Che stava qui. Guarda, ci sono tutti quei. Catti, già sto qui, la tua telefona. Non rispondere. Non rispondere, lascia stare. Non rispondere, non scrivere anche quello. Non far niente. Ah, a ghost. I'm going to make you a skooki sandwich. Ok. Oh, aspetta, il microfono. Beh, chi si chiama Rana? Pronto. Bella a tutti, ragazzi. Oh, cavolo, aspetta, ho dimenticato la musica. Arcaeva. Eccola. A post. Bella a tutti, ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. Sono Favij. Ed oggi siamo in un nuovo super lativo vlog. Allora... Ok, è stato un bel video. Ciao a tutti. Siamo riconoscenti a voi che avete guardato qui. Siamo anche dove pubblicherò, forse, su Muff Channel. Ciao.